Come ti insegno una risalita dai sassi per tornare qui? Sì, sulla cartina c'è scritto per i bike. Ecco il tipo. Ah, vedo? E' sbuo qui eh. Sì. 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 anche a me questo è un altro livello e ora fra a me ragazzi lui mi dice che lui mi dice che e poi la figlia dice che lei mi viene giù e si finisce pronto pronto ciao Luca allora guarda se ti trovo delle vostre zone invece di stare a lavorare su black manda andate a tappare mi dovete portare a tappare ora se li rimando tutto e poi e poi dopo si vede si vede ah ci da letta di giro si scappano tutti i pensieri nuovi bellini non sono belli o black manda però come che nel nostro figlio quindi le nevi laggiù si vogliano si si vogliano si 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 le gambe? Comunque si poteva proprio attrazzare. Ha visto lì a destra? Questo è il bruciare gambe? Nulla a che vedere occorrerà. Questa è bella sosta.